Ci sono altre figure professionali, gli operatori di ripresa e soprattutto c'è un ruolo che tipicamente Rai dentro uno studio televisivo come questo, che è quello del primo cameraman, la parola quindi va a quello che è il primo cameraman di questo studio. Buongiorno a tutti, generalmente siamo abituati a vedere l'operatore di ripresa legato all'informazione, al mondo del cinema e al mondo della pubblicità come un'entità singola, come una persona che lavora da solo. Cioè la grossa difficoltà, soprattutto nel nostro televisivo, è quello che sulla scena agiscono più operatori. Come nel nostro caso, in questo studio qua ci sono otto telecamere presenti all'interno dello studio. Il compito importante del primo operatore è quello di coordinare gli altri colleghi. Cioè intanto cerca di impostare con i colleghi, c'è un discorso che è quello dello scrivere allo stesso modo all'interno dello studio. Cioè scrivere allo stesso modo cosa vuol dire? Cioè che tutti quanti, cioè i primi piani, le varie inquadrature devono essere bilanciate allo stesso modo. Cioè in modo che il passaggio da uno stacco all'altro si noti il meno possibile. Cioè, soprattutto sui primi piani, cioè le aree devono essere ben bilanciate. Cioè i pieni e i vuoti devono essere ricondotti nelle loro proporzioni naturali. Secondo me è una cosa fondamentale questa, cioè il fatto che tutti quanti sappiano scrivere allo stesso modo. Sembra una cosa strana, però alla fine, cioè la ripresa, cioè diventa anche un modo per scrivere. Cioè perché anche tu partecipi, collabori, su un certo aspetto alla stesura di quello che è la riuscita dello spettacolo. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda il primo operatore è il rapporto che assume rispetto al direttore della fotografia che del regista. Rispetto al regista, cioè si consultano, il primo operatore si consulta con il regista nella scelta dei mezzi. Soprattutto il primo operatore diventa l'unico referente con cui il regista parla, cioè anche per la scelta, per dire magari bisogna far sì che quell'operatore diventi un attimino più veloce su quel tipo di movimento oppure arrivi prima sul dettaglio o meno. È fondamentale anche la scelta del tipo di ottica particolare che si può utilizzare in quel momento. Adesso vi faccio una descrizione abbastanza veloce di quello che sono le caratteristiche fondamentali di una telecamera. Allora vado a prendere. La porto qua così tutti quanti hanno la possibilità di poterla vedere. È costituita fondamentalmente da questa parte qua che è un'ottica. Cioè generalmente in televisione si fate la scelta di utilizzare i trasfocatori, cioè o zoom come comunemente vengono chiamati, che sono degli obiettivi che riescono a fornirci una serie di focale lungo il loro percorso. Questa parte qua si chiama corpo macchina, al cui interno arrivano tutte le informazioni che passano attraverso l'obiettivo, cioè finiscono sulla parte sensibile che si è stata accennata prima, che è il target del CCD, che è lo strumento che traduce in pratica l'immagine luminosa in impulso elettrico che poi alla fine finiscono in controllo video e in regia. Cioè montato sopra il corpo macchina abbiamo questo aggeggio qua che si chiama viewfinder, cioè che praticamente non è nient'altro che un monitorino che alla fine consente all'operatore di rendersi conto di cosa succede attraverso l'obiettivo. Come dicevo prima, siccome l'operatore di fatto è l'interfaccia tra quello che succede all'interno della scena e quello che dopo alla fine vedrà l'utente finale. Per cui quello strumento lì è fondamentale. A fianco vedete questo piccolo monitorino qua, questo piccolo monitorino qua ti serve come indicazione di massima agli operatori per vedere l'uscita mixer, quello che praticamente voi state vedendo in onda in questo momento, perché altrimenti si rischierebbe, cioè nella dinamica della ripresa si rischia di sovrapporsi rispetto a certe inquadrature. E quel tipo di monitorino lì ci serve appunto per far sì che non andiamo ad accavallarci rispetto alle inquadrature. Poi abbiamo questa parte qua che è una parte fondamentale per quanto riguarda l'operatore, per quanto riguarda i movimenti e la fluidità dei movimenti. Questa parte qua si chiama testata della telecamera. Cioè praticamente è la parte che raccorda il corpo macchina con il carrello che sta sotto. Cioè l'importantissimo è che la testata sia di una qualità altissima, cioè sia altamente professionale, cioè in modo che i movimenti siano il più fluido possibile, perché una panoramica orizzontale, una panoramica verticale o una diagonale diventa fondamentale. Se va a scalini la telecamera, cioè diventa una roba che è quasi inguardabile. Poi abbiamo quest'altra parte qua che per quanto riguarda gli studi si chiama gas pedestal. Cioè è un carrello le cui ruoti sono sterzanti attraverso questa ruota qua che si chiama manubrio. Cioè riesce ad andare a destra, a sinistra, avanti e indietro. Questo tipo di manovra viene fatta direttamente dall'operatore o dal carrellista che hai a fianco. La caratteristica di questo carrello, cioè che sotto c'è una bombola che viene azionata ogni qual volta tu alzi e abbassi il carrello. Se ogni volta con il peso che è a sopra dovessimo sollevare la telecamera, faremmo una fatica allucinante. Mentre prendosi una valvolina si libera questo gas e consente un movimento fluido. Per cui tu puoi fare dei movimenti cosiddetti di torre per alzare e abbassare la telecamera con facilità. Sulla testata viene montata, vengono montati questi due maniglioni. Ora su un maniglione c'è, questo qua, è la manopola dello zoom. Serve praticamente per far muovere meccanicamente le lenti in modo da creare una serie di rapporti in grandimento diversi, cioè facendo scorrere lo zoom. Questo invece è la manopola del fuoco. Altra cosa importantissima è che sulla manopola del fuoco è montato questo dischetto qua in alluminio. Funziona un po' da volano per facilitarti anche il movimento. Poi nei tempi passati, quando in Rai si facevano gli sceneggiati, cioè su questo dischetto qua venivano montate una serie di mollettine che consentivano all'operatore di arrivare a fuoco, cioè durante il movimento, magari doveva passare da un primo piano all'altro. Oppure c'era un movimento che era una zoomata più la correzione di fuoco, cioè facendo su una serie di riferimenti che lui sentiva ad orecchio perché c'era una mollettina che toccava, sentiva tic, sentiva questo tic, sapeva che era già arrivato e che non doveva andare oltre col fuoco per non rischiare di sfocare. Poi adesso un altro attrezzo che vedremo, che penso possa interessarvi, è lo Steadicam. Lo Steadicam praticamente è una telecamera normalissima montata su un'apparecchiatura particolare inventata da Garek Brown. La particolarità dello Steadicam è che è diviso in tre parti, cioè il corpetto, il braccio che serve per ammortizzare tutti i movimenti della telecamera e questa parte qua, questo palo dove è montata il corpo macchina. Su quel palo lì inoltre è montato anche un monitorino che serve all'operatore come riferimento durante tutti i movimenti che effettua lo Steadicam. Altra cosa importantissima, con lo Steadicam si possono abbinare direttamente i due movimenti, una che è quella del carrello e l'altra la velocità di esecuzione che potrebbe avere una camera a spalla. In questo caso è assemblata con una radiocamera, cioè praticamente c'è un trasmettitore, quel coso lì arancione montato sopra è un trasmettitore, là c'è la cosiddetta mitraglietta che riceve il segnale che viene inviato attraverso il cavo, viene inviato in controllo. Io credo di aver terminato, grazie a tutti.